Entrano in finale con fiocchi di neve, il coro di Cadore! Grandissimi questi applausi ed ancora arriva alla finale la scuola di Castelveccana! La strega! E' un po' di un po' di un po' di un po' di scuola! No, no! Perchè! Perchè! Oh no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.